Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Canobbio, sono al piano terra di uno stabile di nuovissima edificazione 2019, anzi ancora devono finire alcuni dettagli Piano terra e sono qua per mostrarvi un appartamento di tre mezzo locali uno stabile di quattro piani con un totale di 21 appartamenti allora si accede direttamente nella zona giorno dove vediamo subito il giardino privato e alle mie spalle rispetto all'ingresso vediamo la cucina cominciamo da qua, appunto si trova accessoriata di colonna frigorifero e congelatore a tre cassetti tutto ancora bello imballato, qui si trova il piano cottura a induzione e sotto il forno ad aria calda e qua a fianco abbiamo la lavastoveglia cucina compatta, c'è tutto quello che serve ed è una cucina con elettrodomestici di marca Siemens ancora qua nella sua interezza accanto alla cucina abbiamo un primo bagno comodissimo, un bagno di servizio completo di lavabo specchiera fissa, qua accanto il water e di fronte abbiamo l'attacco per colonna lavatrice asciugatrice molto molto comodo proseguiamo allora dal salotto abbiamo sulla destra una prima stanza con il secondo bagno bagno in questo caso completo di water bidet, box torch avrà messo il vetro per a schizzi specchiera e lavabo con il doppio cassetto e al fianco una camera camera che ha una superficie di circa 11 metri quadri per un figlio magari come studio, camera per ospiti a dipendenza di quelle che sono le necessità ed ora vediamo invece la camera matrimoniale questa ha una superficie invece di 14 metri quadri che questa ha la possibilità di uscire sul giardino e poi al suo bagno privato completo in questo caso di vasca sempre specchiera fissa, lavabo con un doppio cassetto il water e il vide e sopra una finestra e quindi anche da qua c'è la possibilità di uscire sul giardino, giardino privato che è di circa 180 metri quadri è molto grande, recintato tutto qui di fronte e poi prosegue ancora a lato fino a questa parete e qua insomma vediamo di una bella pace di una bella privacy qua in futuro ci saranno anche delle piante quindi ci sarà ancora più privacy, più verde e ci sarà sicuramente meglio in dotazione con l'appartamento anche un postel dell'autorimessa si accetta assicurazione oppure le tre classiche mensilità per quanto concerne il deposito sono ammessi animali di piccola taglia previo accordo e consenso da parte dell'amministrazione dei proprietari ed è davvero tutto allora vi aspettiamo venite voi a vedere questo bellissimo appartamento di tramezzolocali con Gianni a canale grazie a tutti ti affitto